Proprio adesso che ho le lenzuola bianche dovevo fare questo video Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Se ancora non ci conosciamo, piacere, io sono Shanti e altrimenti bentornati I venerdì ormai stanno diventando Shanti fa cose male In particolare Shanti fa cose male nei giorni in cui ha degli eventi Sì perché l'esperimento che faremo oggi arriva proprio, cade proprio in un giorno dove io stasera ho un evento A cui andrò probabilmente con la faccia rovinata Ma ci piace così, ci piace vivere on the edge Allora per chi non mi conoscesse io ho una passione, un amore per le lenticini e le felidi Indecente, incredibile, da sempre Le adoro sugli altri, le vorrei tantissimo io Cioè quando è stata io mi metto lì così dicendo solo ti prego invadimi Solo che me ne vengono soltanto poche Ho pensato seriamente di farmi le tatuare Ma poi in realtà mi sono ricordata Ehi, ci sono tanti modi per fare le lentigini Tra cui questo Un sacco di voi mi hanno mandato in realtà i video di altre persone che hanno fatto questa cosa qua Ovvero utilizzare le ne per farsi delle lentigini vinte L'idea è che sembrino vere, però E se avete intenzione di farlo voglio che impariate dai miei errori Così da fare le cose meglio Dunque, allora prima cosa, io ho appena lavato i capelli se non si capisse E ho pulito la faccia, è completamente detersa e secca Non ci ho messo nulla Ci sono due schieramenti Ricordate che ho passato gli ultimi due giorni a guardare video di gente che si fa le lentigini così Quindi ho tipo visto tutto quello che c'è su YouTube E appunto ci sono due schieramenti Quelli che mettono dell'olio prima Per fare in modo che le ne non prenda troppo E quelli che invece dicono no, pelle super secca Non ci deve essere niente tra la pelle e le ne Io già che lo faccio lo voglio fare bene E non metterò niente Seconda cosa, io qualche giorno fa quando ancora non avevo visto i video mi ero detta Vabbè, e ne, basta comprare delle ne Sono andata in un negozio di prodotti per capelli e ho preso questo Che è delle ne per i capelli E ho provato a spalbarmelo in faccia L'ho tolto e non c'era nulla Ho buttato 11 euro Tra l'altro devo trovare qualcuno a cui regalarlo perché non voglio buttarlo E io non me ne faccio nulla Vabbè, quindi mi raccomando E ne per tatuaggi È una cosa diversa Quindi quello è il primo errore da evitare E ne per i tatuaggi se ne trovano in vari formati Io in realtà lo volevo comprare su Amazon Soltanto che c'era scritto che ci metteva 2-3 settimane E io non avevo così tanto tempo Ma se voi siete pazienti vi lascio il link qua sotto Così potete recuperare esattamente il prodotto giusto Avendo fretta mi sono detta Cerchiamo un negozio indiano da qualche parte Che sicuramente avrà quello che cerco Ed eccolo qui Non ha la forma di quelli che avevo visto negli altri video Però il concetto è lo stesso perché È un... Cominciamo a sporcare in giro È un tubetto con dentro l'ennè E con la punta fine Che è quello che ci serve Pagato tra l'altro 1,50 euro Quindi tipo la cosa più conveniente della terra Mi raccomando fate attenzione Quando comprate l'ennè Che sia quello più naturale possibile Perché se ve lo vendono Come tipo un ennè super nero A quanto pare non è quello naturale Ma ci aggiungono delle cose chimiche dentro Per farlo più nero possibile E ovviamente questo non fa bene alla pelle Allora, ieri in realtà Quando l'ho comprato Io ho già fatto un test Uno qua sulla mano E alcuni sul viso E non è risultato molto positivo Nel senso che Appena messo è arancione Ma normalmente dopo 24 ore 48 ore Dovrebbe scurirsi Sono passate 24 ore È ancora piuttosto arancione Allora, quello sul dito È ancora piuttosto arancione Sul viso Rimaneva molto poco Ma era comunque arancione andante Una cosa non mi lascia molta fiducia In questo progetto Però ormai siamo un borde Si fa Seconda cosa Da quando ho lavato il viso E ho lavato i capelli È comunque andato via molto Ho provato a cercare suggerimenti Anche per questa cosa qua E a quanto pare Dovevo tenerlo su Un pochino di più In modo che risultasse più scuro Quindi invece di 15-20 minuti Proveremo a tenerlo Mezz'ora o un'ora Vediamo come va In ogni caso Per l'evento di stasera Mi devo truccare Quindi in caso Comprirò tutto Tipo 10 strati di fondotinta Niente Ora bisogna semplicemente Metterlo Prendo lo specchio Se avessi la certezza Che va come voglio Che vada Li metterei ovunque Cioè Io prima o poi troverò L'enne perfetto Che fa esattamente L'effetto che voglio E meditato erotipo Per il resto della vita Cioè una volta trovato Questo sistema There's no going back Perché Cioè io Mi sento che Sarei dovuta nascere con Quindi Sì Questa è la puntina E ho visto ieri Che basta anche semplicemente Un po' sporcato E già segna Quindi fate molta attenzione Per esempio Ieri ne avevo fatto Un puntino sul dito Per sbaglio Ho colpito contro qualcosa La riga È rimasta Quindi Bisogna essere intenzionali Sul posizionamento E non devi andare sul letto Soprattutto Non so se vedete Questo è un puntino Fatto da Fatto ieri Qui alcune sono mie Qua o qua Sono quelle di ieri Però il colore Dai Forse è un pochino meglio Perché in realtà Anche le mie lentigini Sono comunque Un marrone In caldo Quindi forse Si confonderanno bene Partiamo da dove Le vogliamo più intense Perché ovviamente Rimarranno più tempo Sulla faccia Quindi sul naso Cercando Di variare La dimensione Di non farle Troppo regolari Aiuto So cute A me piacciono tantissimo Anche le lentigini Un po' sul labbro Cercando di non mangiarlo Dopo magari Avevo detto Che non avrei esagerato Ma qua Ok Questo è quanto Per ora Mi ritengo Più sotto soddisfatta Cioè se Dovessero rimanere così Cioè oddio Non così scure Ma ci potrebbe stare Potrebbe tanto bello Niente Io adesso le tengo su Appunto Vediamo Tre quarti d'ora Un'oretta Vedo come reagisce la pelle Sul labbro Mi brucia un pochino Strano perché ieri Non mi ha fatto questo effetto Se vedo che mi brucia troppo Lo tolgo ovviamente Il resto del viso invece Non sento nulla Quindi meglio Ci rivediamo Tra un po' E farò poi un update Anche domani Dopo le famose 24 ore Per vedere Se cambia qualcosa Per le 48 ore In caso mi trovate Su Instagram A tra poco Che dire Alberto mi ha chiesto Se sono stata troppo vicina Alla padella Mentre preparavo il succo Il pomodoro E direi che è la domanda giusta Vabbè Sapevo che sarebbero state Super arancioni Però fa comunque Impressione da vedere Il fatto è che Non posso neanche lasciarle riposare Perché tra poco Mi devo truccare Che oggi andiamo a fare delle foto E spero che non si vedano troppo Io prego Che domani O al massimo Dopodomani Diventino un error Se seguono il percorso di questa Un po' si spegneranno Se non altro diventano più leggere Comunque la mia idea È che se questo prodotto qua Fa questo risultato qui Proverò quelli su Amazon O quelli su Ebay Sperando che facciano Un risultato diverso Vado a prepararmi A truccarmi E vi faccio vedere Com'è il risultato Col fondotinta Ragazzi Mi sono truccata Prima osservazione Sembra un sacco arancione Non so se si vede Nonostante che abbia messo Il mio fondotinta Penso Perché prima per togliere le nee Ho usato dei cotton fiat Bagnati con l'acqua E poi l'ho sciacquata La faccia Però mi sa che un po' È rimasto addosso E sono diventata Un pochino Un palompa Però ecco Poteva andare in peggio Devo dire che il risultato Trovo che sia un sacco carino Perché ha smorzato L'arancione La potenza Però si vedono Si intravedono E sono carine Cioè se domani Saranno ancora meno arancioni Saranno tipo perfette Comunque è incredibile Quanto il fondotinta Non riesca a coprirle Cioè Cioè per me è una cosa bella Però immagino una persona Che ha le lentiggini E non le vuole Sono difficili da coprire Ma io sono contenta Cioè per me si possono Far vedere quanto vogliono Si vedono anche queste qua Non ho messo il rossetto apposta Per farmi vedere So cute E adesso io esco Che oggi andiamo a fare delle foto E spero di non sembrare Troppo arancione Noi ci vediamo domani Con l'aggiornamento Su come sono evolute Le mie lentiggini In 24 ore Ah Cosa siamo arrivati Buongiorno È il giorno dopo E ho anche evitato Di fare la skin care Per ora Perché non volevo Cancellare le tracce Ancora di più Perché non so se avete visto Ma è scomparso tutto Io non so Se è il prodotto Se è il fatto Che mi sono pulita Troppo Ma non rimane Praticamente più nulla Allora qua Qualcuna È mia E qualcuna Arriva da ieri Anche qua sul naso E qualcuno qui Qua ce ne sono un paio Però insomma A parte che sono ancora Arancionine Quelle che sono rimaste Ma è andato via tutto Incredibile Sono triste E quindi niente La mia conclusione È questa Questo prodotto qua Non so se lo userò ancora Proprio perché A parte che rimane arancione Adesso vedremo domani Però Rimane arancione Dura molto poco Non so se ho sbagliato io qualcosa Se c'è qualche esperto Di tatuaggi all'enne Fatemi sapere qua sotto E quello che proverò a fare È ordinare esattamente Lo stesso prodotto Che hanno usato altre E che ho visto Questo di loro ha funzionato In caso mi linko Anche quello qua sotto In più proverò anche Quello di Amazon Sperimenterò Perché devo trovarne uno Che funzioni E che mi fa l'effetto giusto E ci tengo Devo averle Cioè È stato così bello Ieri andare in giro Tutta lentigginosa Vorrei che fosse così sempre Non penso che farò Altri video sulla cosa Perché sarebbe un pochino Ridondante Però sicuramente Troverete nelle mie Instagram stories Tutti i miei tentativi Le volte che ci proverò E quindi Ecco Se volete rimanere aggiornati Sicuramente mi trovate Su Instagram Ottimo modo Per farsi pubblicità Brava Shanti Purtroppo veramente Il venerdì Stia diventando Shanti Fail Dovremmo diventare Il giorno di Shanti Fail Perché ci sarà Una volta che riesco A fare qualcosa Caspita Se avete altri suggerimenti Di cose che dovrei provare Fatemi sapere Magari legati già I miei interessi Perché non mi piace Fare esperimenti Comitamente a caso Di solito hanno Uno scopo Capito No in realtà Il venerdì è dedicato All'estetica Al beauty Al fashion Al corpo in generale Direi che adesso Per un attimo basta Esperimenti Torniamo a fare Gli haul Le trasformazioni E le cose carine Io ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per avermi sopportata In questo tentativo Non perfettamente riuscito Se volete vedere Altri fail O altre cose Invece di successo Mi ricordo di iscrivervi qua Perché vi farebbe Tanto tanto piacere Rivedervi nei prossimi video Io vi auguro Una magica Magica giornata E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao